Ancora una larga vittoria di un'acqua e sapone Unigros che ha un saldo attivo di gol di più 55 ed è tutto dire. Stasera alle 20 recupero al pala di Copiano contro il San Giuseppe, già battuto di recente. Da evidenziare il colpo gobo di un eccellente color Max Pescara che continua a stupire e spugnando Avellino, quarta forza, bravissimo Palusci con il suo ennesimo miracolo che consente ai suoi di accamparsi al ridosso della salvezza diretta. In A2 pari interno Superbeffe di nuovo in coda al match per la Tombese Ortona 3-3 col Tignoso Lucrezia con un post-gara incandescente con la dichiarazione al vetriolo del presidente contro la terna arbitrale. Mettici poi la Iella Nera tra occasioni sciupate e infortuni ed espulsioni squalifiche e il quadro è completo. In bisfortunato scivolone interno 3-5 della Real Dem contro l'Itria. In A femminile Montesilvano vince in coda al match a Scandicci 3-2, 60 gol raggiunti, miglior attacco. Secondo posto confermato a meno 7 dall'imbattuta capolista Falconara prossima avversaria proprio delle abruzzesi. E a proposito Abruzzo in festa in A2 dove vincono tutte e tre a partire dalla capolista Francavilla, 7-1 sul Santa Maria Nuova alla vigilia dello scontro al vertice di domenica a Rimini contro la Virtus Tromagna, seconda a meno 2. Primo successo dell'Orione Vezzano che travolge il Foligno 5-1, preziosissimo il colpo Corsaro del Florida Pescara 2-1 a Perugia.